Ci troviamo a Policastro Bustentino nel convento di San Francesco con Giovanni Fortunato, presidente del Consiglio Comunale di Santa Marina. A che punto stanno i lavori qui al convento? I lavori sono a buon punto, siamo quasi al 90%, speriamo di inaugurare presto questa grande opera costruita nel 1200, abbandonata da diversi secoli e finalmente risplende e sarà data all'intera comunità del Golfo di Policastro. Un'opera architettonica monumentale e importante, sarà un centro dove organizzeremo convegni di cultura, di politica e quindi sarà veramente di nuovo un luogo di cultura. Quindi io credo che per Pasqua sicuramente questo sarà inaugurato e quindi daremo all'intera collettività di Policastro, ma all'intero Golfo di Policastro, un'opera dove tutti possono soffrire per organizzare convegni, mostre e punti e incontri di cultura. Perché la cultura, senza la cultura un territorio non può crescere. Noi vogliamo crescere, vogliamo ritornare agli antichi splendori e quindi questo posto rappresenta l'antichità, ma dove questo territorio, l'intero Golfo di Policastro, era un punto di riferimento non solo per il territorio, ma per l'intera nazione. Molti affreschi sono emersi dai lavori di restauro? Sì, affreschi importanti, sembra che derivano dalla scuola di Giotto, perché quello è il periodo storico. Sappiamo che San Francesco è passato per Policastro perché Policastro ha dato il primo vescovo francescano della storia del Cattolicesimo, era il vescovo di Policastro. Sappiamo tutti che Policastro, Diocese di Policastro, è una delle più antiche del sud. Quindi sono dipinti importanti e questo dimostra che questo territorio ha dato nel passato e deve dare nel presente e nel futuro. Dobbiamo ritornare grandi per una dignità, per una cultura e soprattutto per dare il futuro ai nostri figli.